Un altro incendio che ha interessato in questo caso un appartamento in via Picena nella zona della Pietra Grossa in cui è rimasto lievemente intossicato un uomo. Le fiamme si sono sviluppate al quinto piano di un edificio e hanno portato all'evacuazione di 15 famiglie. L'allarme è stato lanciato in tarda serata e intorno alle 23 e 30 sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con il supporto dell'autoscala e di un automezzo di supporto per riserva di autorespiratori. L'incendio è partito da un appartamento dove si trovavano padre, madre e un figlio della coppia che sono stati tratti in salvo indenni. L'innesco per cause in corso di accertamento è avvenuto all'interno della stanza da letto del figlio provocando gravi danni strutturali a una parete perimetrale e al solaio nonché danni da fumo e calore alle suppellettili delle restanti stanze dell'appartamento. Nell'ambito delle operazioni di soccorso a scopo precauzionale sono state evacuate tutte le famiglie presenti all'interno delle abitazioni interdette all'uso anche le unità abitative soprastanti e a causa delle infiltrazioni di acqua anche quelle sottostanti collegate alla stessa scala. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale medico e paramedico del servizio sanitario del 118 di Chieti.